Gamma caschi K2018, questo qui è il KV29, è un casco dedicato alle caffè racer, è in fibra ed è disponibile in due diverse calotte, quindi la dimensione della calotta rimane compatta quando lo indossate. Ha una visierina parasole che viene giù in questo modo, l'interno molto morbido in un velluto antiallergico con anche delle parti traspiranti, è disponibile in finiture opache, in 5 colorazioni, inclusa anche una grafica lucida molto particolare dedicata alle caffè racer, questo qui è il KKV29.